salve a tutti ragazzi io sono dradegos e oggi siamo in un nuovo video quindi oggi siamo su turbo dismount che sarebbe un gioco molto bello che per chi non lo conoscesse turbo dismount in pratica parla di scontrarsi farsi male più ti fai male e più punti ai facciamo scaramanga ok con il carrello della spesa vai cazzo non visibile mi spingi comunque poi faccio usare no aiuto la presa mi vuole prendere ok l'eco prendo questo che con questo volo tipo mi metto a volare vai vai ok meglio non porsi domande cioè ok e prendiamo veicoli prendiamo questo è il mio preferito si chiama il token bird vai e dai e dura la vita non so prendiamo e faccia un altro livello facciamo il spese programma ok avanti per questo mi appalerò del triciclo vai 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 il triciclo marchio del marchio della degos è ancora l'antica io vado che cos'è piccolo adesso prendiamo veicoli lo skateboard io ciao mamma io vado io vado fuori con lo skateboard vai c'è la rampa la rampa la rampa la rampa vedo la skateboard adesso prendiamo ehm prendiamo il mezzo il mio mezzo il mio mezzo è un mezzo bellissimo no prendiamo il mezzo bellissimo cioè la moto vai andiamo con la moto andiamo con la moto andiamo con la moto aiuto neanche di tempo di andare sono già morto vai io la moto sto continuando ad andare sopra no è andato giù no la mia moto mi è costato 100 miliardi di euro no la mia moto ti ho guardato uoooooo io vedo dove è andata prima la moto no no sono caduto prima io la moto no voglio vedere che la moto ok ok mi sono staccato dalla moto ah penso ah penso tipo sono caduto e mi è andata in faccia della moto che bello ok prendiamo l'unica cosa che ce la può fare no no intanto mi smettiamo e prendiamo l'unica cosa che la può ho sbagliato taschi scusate prendiamo dei coi qui questa luna cosa che ce la può fare vai cioè questo è sveglantissima questa macchina ah 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 se lo ha foro eh tipo stanno porando è la casa mia è la casa mia è la casa mia è la mia casa è la mia casa non vedo niente guardate negli occhi di un avversista no 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 si vedo cosa mia vedo cosa mia la palla è casa mia no 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 quella è casa mia sbagliato ai miei piedi io sono miei piedi nooo non pensavo delle viventi aiuta che è brutto ho una cosa vivente ma cosa si mangia che cosa è ok prendiamo un altro livello prendiamo le livelle facciamo ok mi ispira molto fiducia così mi ispira molto fiducia mi sono andata a scontrare contro una palma prendiamo facciamo skimass ok torno Te, abbo, te, col gioco la macchia veloce, devi andare a volare così. Corvo, vabbè, cosa si prova, andiamo, cosa si prova ad andare a velocità della luce? Non mi supererai mai! Vai, d'aiuto! Sono a pezzi, aiuto! Sono a pezzi! Non è vero, senza la parola. Aiutatemi, sono a pezzi! Cioè, ho spaccato tutto. Guardate comunque qua, lo schianto è così stato, così potente, che ha spaccato pure l'aria. Ok. Ma... Non mi prenderò mai! Mai, hai capito, mai! Sarei io il più veloce! Ho fatto diecimila schianti, tipo... Oddio... Oddio! Mio malacchio! Mio malacchio! Perché non cade se ti ho... Questo è il cavolo che è. Non c'è nessun dislivello, perché va a lanci... Adesso cade secondo me, cade se fa male. Non c'è nessun dislivello, perché va a lanci... Adesso cade secondo me, cade se fa male. E' da un'ora che sono qua. E' da un'ora che sono qua. Ma... Mio testa... Il mio corpo è nelle mie teste, se non è incastrato alla ruota. Ok. Facciamo altro livello. Facciamo... Stormdrain. ok ma con però non con questo con questo c'è un bestione questo non è che è esagerato vai 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 che cavolo voglio vedere cosa c'è dopo aiuto 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 mi fa male le gambe aiuto cosa è successo non mi si ritrova una persona si deve tutta l'entrata ii e se la prendiamo let's get going ok ma Media aiuto aiuto un braccio questo gioco è troppo bello quindi facciamo ok ma con con questo vai no il mio donato veicolo che mi ha costato 0,000 un centesimo no il mio veicolo si è rotto si è rotto no il mio donato veicolo si si vai ok prendiamoci le clivelle facciamo che gioco no la gioco è proprio privata facciamolo con però con il camion dei pompieri vai che ancora non l'ho usato cioè non vedo niente non vedo niente ok vai vai nino nino c'è un incendio c'è un incendio spostatevi 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 quindi ragazzi il video c'è finito ricordatevi di iscrivervi e di lasciare un like al video e soprattutto se pensate che schiantarsi sia bello commentate bella ragazzi ciao 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 ciao